Cristia se io devo ascoltare buona musica che tipo di musica devo ascoltare? Allora questa domanda innanzitutto presuppone che questa persona sia aperta ad ascoltare nuovi tipi di musica in genere uno si fissa musica rock musica pop musica heavy metal e ascolta solo questa è come un po un pianista che ascolta solo le musiche per pianoforte delle sinfonie non gliene frega niente eccetera oppure un clarinettista che all'interno di un concerto ascolta solo l'obo e mentre fa quelle piccole note che nessuno sentirebbe mai e si dimentica di tutto il contesto quindi bisogna assolutamente ascoltare tutto ora questa domanda è veramente veramente molto bella ma anche molto difficile da spiegare perciò credo che io e te staremo a parlare per un bel po' di tempo adesso allora la mia risposta soggettiva mi raccomando soggettiva ribadisco soggettiva è Bach se devi ascoltare bella musica ascolta Bach con la H aspirata che non so fare perché bisogna ascoltare Bach perché era veramente il sommo compositore cioè era il genio della composizione chi riusciva a scrivere delle fughe in quel modo e questo piccolo aneddoto che ti sto per dire adesso ti può dare delle testimonianze allora se tu non so se tu prendi per esempio la musica di Mozart, Beethoven spettacolare la musica di Chopin ma Chopin scrive il poeta del pianoforte scrive cose magnifiche non c'è un pianista ma anche altri strumentisti oppure anche chi proprio non suona non c'è qualcuno che non ama Chopin cioè non si può non amare il suo tocco delicato la dolcezza della sua musica il suo romanticismo più spietato proprio è una cosa incredibile Chopin eppure se tuo Chopin gli provi a togliere il pedale ti crolla un mito cioè la musica di Chopin perde senso come peggiora ancora se tu gli togli il pianoforte a Chopin prova a riprodurre la musica di Chopin per esempio su un violino e le hanno fatte queste trascrizioni hanno trascritto alcuni notturni di Chopin per violino solo per violino e piano eccetera ma perdono veramente molto di significato perché Chopin è stato concepito sul pianoforte se tu gli togli il pianoforte Chopin ha finito di vivere se tu prendi Bach e gli togli il clavicemma gli togli l'organo a lui non gli frega niente perché la sua musica riprodotta in qualsiasi altro strumento che sia violino che sia controfagotto che sia la viola da gamba qualsiasi cosa rimane comunque qualcosa di fantastico prendi non so i qualsiasi quale suite per cello prendi suite per clavicemma qualsiasi cosa è tutto fantastico perché lui non scriveva in termini di timbro di quello strumento ma pensava ragionava in termini assoluti veramente era musica pura che poteva essere adattata per qualsiasi strumento mentre per esempio Chopin pensava chiaramente quella musica come pianoforte quindi a mio avviso quando una musica è pura e trascende dal dal timbro del dello strumento allora sì che siamo dinanzi ad una musica di altissimo valore e adesso appunto ti racconto questo aneddoto allora tu conoscerai benissimo Mozart io credo che sia uno dei geni più incredibili che la storia della musica abbia mai avuto geni e talenti proprio innati cioè lui non è certo il talento va sempre coltivato ma lui ha avuto queste doti naturali sin dall'inizio altrimenti non avrebbe scritto la sua prima sinfonia ad otto anni e ribadisco otto anni quando un otto anni è malapena riesce a fare la tabellina del due mentre per fare una sinfonia c'è una matematica dentro incredibile detto questo detto tutto Mozart che era il miglior ed è tuttora ed è sempre stato il miglior compositore di tutti i tempi lui appunto si sentiva invincibile perché ascoltava i suoi coetanei ascoltava i suoi contemporanei della sua epoca e sapeva che nessuno era in grado di scrivere cose come lui quindi lui si sentiva veramente invincibile lui prendeva lo spartito tatan scriveva senza neanche ragionare cioè era automatico per lui scrivere infatti è risaputo che Mozart non non riguardava mai le sue composizioni erano già perfette così tra l'altro non so se sai questo aneddoto che se mettiamo in verticale tutti i fogli di tutte le composizioni scritte da Mozart otteniamo un palazzo di tre piani ed ha vissuto così poco ed ha composto così tanto cioè questo ti lascia dire tutto ovviamente non è che è musica composta tanto allora di poca qualità no è tutta musica di altissima qualità quindi Mozart componeva tranquillamente e sapeva di essere il migliore infatti odiava tutti non aveva stima di nessuno odiava tutti per esempio odiava anche Clementi che in diverse lettere che scrive alla sorella diceva che non andava studiato perché non serviva nulla eppure cioè infatti c'è anche questo aneddoto fantastico dove abbiamo Clementi che è il talento coltivato e Mozart che è il talento innato ci fu infatti questa loro poi hanno stili veramente molto simili fra di loro solo che uno è talento coltivato e l'altro è genio innato ora c'è questa aneddoto in cui abbiamo Mozart e Clementi che si ritrovano a fare questa gara di improvvisazione e composizione tra l'altro all'epoca del 1700 1800 tutti i compositori erano esecutori e tutti gli esecutori erano compositori erano anche tutti improvvisatori quindi esecutore compositore ed improvvisatore erano racchiusi tutti nella stessa figura cosa che oggi abbiamo invece l'improvvisatore il compositore che magari non sa eseguire la sua opera l'esecutore che non sa mettere tre note su uno spartito sta cosa è un po' ripugnante però questo è il mio pensiero chiuso a parentesi quindi avevamo questa gara di improvvisazione e composizione da parte di Mozart e Clementi parte la gara di composizione avevano se non mi sbaglio tre ore per scrivere qualcosa o forse 30 minuti vabbè non mi ricordo bene insomma Mozart compone Clementi compone e alla fine di questa gara Clementi doveva suonare l'opera composta da Mozart e Mozart doveva suonare l'opera composta da Clementi allora tutte e due ovviamente cercavano di scrivere qualcosa di impossibile in modo tale da mettere in difficoltà l'altro inizia a suonare Mozart l'opera composta da Clementi e Mozart veramente si ritrova con molte difficoltà tecniche perché Clementi ci ha messo seste terze doppie note quattro diesi insomma aveva riempito quello spartito di difficoltà e Mozart riuscì ad eseguire la prima vista ma non con poche difficoltà arriva poi il turno di Clementi Mozart dà lo spartito a Clementi e Clementi si ritrova davanti a questo spartito da secondo terzo anno di conservatorio semplicissimo e Clementi lo guarda malissimo come per dire mi stai prendendo in giro allora Clementi inizia suonato tutto facile tutto facile tutto facile tranne arriva ad una sezione del brano in cui succede che c'è questa scala a moto contrario una scala a moto contrario ovvero una scala dove le mani da riunite si allontanano e mentre le mani si allontanano sullo spartito c'è una nota da suonare in mezzo quindi bisognava suonare in questo modo e poi c'era una nota in mezzo da premere e Clementi ovviamente non sapeva come premere quella nota perché aveva le mani occupate altrove come si faceva? insomma si incartò una volta, si incartò due volte, si incartò tre volte fin quando non si fermò e disse Mozart fammi vedere tu come si suona perché sta cosa qui non la so fare Mozart con molta non chance si avvicina allo spartito e fa sta cosa qui praticamente quella nota centrale andava presa col naso proprio per farti capire quanto lui se ne fregava di tutti prendeva in giro tutti perché secondo lui nessuno era la sua altezza e aveva assolutamente ragione quindi Mozart denigrava tutti ma aveva grande considerazione di due artisti il primo è Joseph Haydn uno dei più grandi maestri di tutti i tempi al quale sia Mozart che anche Beethoven per esempio la prima sonata di Beethoven è dedicata al maestro Haydn quindi questo fa già capire tutto di quanto i grandi compositori avevano stima di questo grande maestro e il secondo era Christian Bach ovvero un figlio di Bach che era anche lui un grande musicista infatti noi oggi abbiamo alcuni scritti suoi Mozart conobbe Christian Bach quando era in tenera età infatti subito dopo averlo conosciuto scrive la sua prima sinfonia ad otto anni Mozart continua a comporre, continua a comporre, è sempre il migliore, si sente sempre il migliore fin quando verso la fine della sua vita Mozart muore veramente giovanissimo e quindi verso la fine della sua vita a 27-28 anni inizia a scoprire il padre Johann Sebastian Bach ora i musicisti del settecento conoscevano veramente poco Bach ovviamente non c'era la possibilità di avere dirette conoscenze per esempio non c'era la televisione che ti permette di farti conoscere anche un compositore tedesco chi era del luogo conosceva quelli del luogo ovviamente non c'era neanche YouTube trovi di Bach ah sì adesso carico su YouTube questa mia partita a quattro voci e voglio vedere quanti mi piace mi arrivano purtroppo non funziona così quindi non c'era YouTube, non c'era la televisione e Bach non era poi così tanto conosciuto alla fine della sua età Mozart scopre Sebastian Bach e guardando, visionando i suoi scritti Mozart si rende conto di trovarsi davanti ad uno spartito di un'altezza incredibile cioè si rende conto veramente per la prima volta di non essere il migliore si spoglia di quella sua fiducia estrema e dice e si rimette in dubbio si mette tutto in discussione perché vede questa musica che è al di là di ogni qualsiasi altra cosa perciò Mozart con grande umiltà si rimbocca le maniche e si inizia a fare esercizi di composizione di fughe ora Mozart che era un grande compositore scrisse tutta questa serie di fughe che non pubblicò ma che lui utilizzò solo per esercitarsi a comporre infatti dopo questo grande periodo di esercitazione a comporre le fughe che sono l'arte perfetta veramente matematica pura dopo aver composto tutte queste fughe compone e pubblica i quartetti d'archi che sono a mio avviso le opere più veramente devastanti di Mozart e i quartetti d'archi non sono nient'altro che una fuga ovvero quattro voci quattro strumenti che fra di loro dialogano una voce risponde all'altra l'altra voce riprende il discorso di quell'altra insomma quattro voci che dialogano e la musica è l'unica cosa che ti permette di far andare nel tempo quattro voci o anche più voci d'accordo fra di loro se parlano quattro esseri umani succede un casino con la musica più voci possono andare d'accordo possono appunto dialogare fra di loro una prende il discorso dell'altra l'altra gli fa da armonia da sottofondo, da tappeto quell'altra fa da pedale quell'altra poi riprende il discorso insomma la fuga veramente è l'arte perfetta anche perché è fatta poi da quattro voci per esempio in un coro da quattro voci basso, tenore, contralto e soprano abbiamo queste quattro voci equilibratissime fra di loro che riescono ad avere sempre questo tappeto armonico veramente perfetto per esempio un accordo che noi abbiamo anche fatto da tre note con il raddoppio di questa quarta voce si riesce ad avere questa sempre questa armonia ben composta infatti poi ci sono tutte delle regole sull'armonia infatti Bach strisse l'arte della fuga incompleta dove metteva su scritto tutte queste regole quindi Mozart si mise a fare tutte queste fughe e questo fu il compito più difficile per Mozart noi sappiamo che Mozart componeva di getto non aveva mai avuto problemi di questo tipo ma in questo periodo quando si mise a comporre le fughe trovò grandi difficoltà perché? perché tutti i compositori Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann tutti legano alla competizione uno stato d'animo ma questa credo che sia un po' una cosa comune metti caso che mi è arrivata una multa oggi una multa a 200 euro non è che mi metto a comporre una melodia in tonalità maggiore ah che bello mi è arrivata sta multa no metto un bel accordo minore mi è arrivata sta multa eccetera tutte cose così quindi anche loro sempre con le giuste misure componevano in tonalità maggiore o in tonalità minore a seconda del loro stato d'animo mettevano nella musica delle note a seconda del loro stato d'animo avevano un pensiero che volevano trasmettere in musica quindi cercavano di riprodurre certi effetti sullo strumento sul pianoforte qualsiasi esso sia ecco Bach invece no Bach riusciva a discostare l'elemento umano che poi è l'emozione cioè quello che ci rende vivi sono le emozioni Bach riusciva a dividere l'emozione con la composizione mentre univa solo il cervello quindi la logica alla composizione una delle cose che forse il nostro caro Mozart aveva molte difficoltà nel fare e infatti per lui era molto difficile riuscire a scrivere senza metterci la pancia all'interno del brano e questo fu uno dei compiti più difficili del nostro Mozart ecco Bach invece riusciva benissimo a fare questo anche perché all'epoca quasi nessun musicista componeva perché aveva voglia componeva perché voleva scrivere qualcosa di bello no quasi tutti prima di Beethoven almeno quasi tutti componevano solo su commissione e siccome erano pagati bene scrivevano tantissimo e dedicavano quest'opera a questo duca a questo principe a questa ragazza eccetera eccetera quindi erano tutte composizioni su commissione e Bach scriveva tantissimo quindi scriveva queste fughe magnifiche a quattro voci che Mozart quando le iniziò a scoprirle rimase veramente di stucco ecco quindi se un compositore come Mozart rimane di stucco dinanzi ad una composizione che magari a noi non ci dice nulla però noi dobbiamo capire la difficoltà che sta nel scrivere una certa musica che si distacca dal nostro stato d'animo e quindi è una cosa fantastica che appunto ti consiglio di ascoltare Bach molti lo odiano perché non riescono a comprenderlo però lì dentro c'è la musica pura insieme di note non possiamo proprio parlare di accordi accompagnamento ma insieme di note che stanno bene fra di loro e che dialogano all'interno del tempo è veramente una cosa fantastica e per esempio se hai mai fatto coro io lo sto provando adesso è un'esperienza fantastica veramente queste voci che dialogano fra loro a differenza di come poi succede nel tardo classicismo e il romanticismo invece c'è l'accompagnamento seguito dalla linea melodica ben chiara e differente ecco per riassumere Ascolta Bach che è qualcosa di incredibile Ascolta il clavicemolo ben temperato che poi in realtà non si chiama così ma è tastiera ben temperata clavicemolo è una tradizione una traduzione errata perché Bach diceva di scrivere se infatti tu vai a leggere l'originale c'è keyboard che è tastiera non è clavicemolo quindi lui che tu lo suoni col clavicemolo col pianoforte con l'organo con l'arpsicordo col fortepiano qualsiasi cosa a lui va bene perché è musica pura che va sempre bene qualsiasi cosa tu faccia che tu la trascrivi per musica da discoteca qualsiasi cosa è musica pura che va sempre bene quindi l'alto valore di questa musica è data dal fatto che ovunque tu la trasporti ovunque tu la trascrivi è musica fantastica sempre bella quindi Ascolta Bach che è il sommo maestro dalla quale poi tutti hanno sempre tratto qualcosa Chopin aveva sempre il libro del clavicemolo ben temperato sul suo pianoforte e se li suonava tutti quasi tutti i giorni quindi Bach da lì veramente è nato tutto e da lì che poi è nato il nostro sistema temperato con la nostra ottava con 12 semitoni eccetera per assumere se vuoi ascoltare qualcuno di buono ascolta Bach ciao spero di essere stato chiaro se c'è qualcosa di non chiaro se hai qualche domanda da farmi lascia un commento qui sotto ciao da Cristian grazie